Mi chiamo Filippo Mazzei e sono il presidente della Marchesi Mazzei S.P.A. Agricola. Il vino è una passione, noi veniamo da una famiglia in cui il vino è sempre stato parte quotidiana della nostra vita. In maniera non ossessiva, perché non è che dopo 600 anni ci senti la responsabilità, no, ci piace, ci piace il vino, sapete, a differenza di altri paesi del mondo, in Italia si beve a tavola. Veramente molto poco, quindi è molto importante per i vini che vadano bene con il mangiare. Il vino è una fonte di gioia perché si beve, nessuno ce l'ha ordinato di bere. Si beve perché ci fa piacere, perché è conviviale, perché si parla, perché utilizza il bello, i nostri sensi, sviluppa tutte cose che poi si collegano con la vita quotidiana, con il cervello, con i sogni, secondo me c'è anche tanto sogno. Grazie. Grazie. Grazie.